Oggi è il mio compleanno, 50, sono tanti eh? Vabbè, e oggi quindi ho deciso di condividere un po' la storia dei miei tatuaggi e della mia evoluzione. Ho cominciato a tatuarmi a 14 anni da stupido perché all'epoca con un aghetto da cucito, all'epoca i tatuaggi erano brutti, era una roba oscena, per lo più fatti a mano, era roba per criminali, drogati, robe schifose e quindi l'idea di farmi un tatuaggio, ci ho messo anni per capirlo, l'idea di avere un tatuaggio mi faceva sentire più grande di quello che ero, più duro di quello che ero, chiaramente un ragazzino insicuro, voleva sentirsi più grande, più indipendente, voleva dichiarare la propria indipendenza e quindi mi ero fatto quel tatuaggio. Me ne feci altri tre sempre a mano, poi nei primi anni 90 andai a farmi sistemare, ci sono passato anch'io, mi sistemi il tatuaggio in uno studio di Milano, andai lì perché c'erano degli amici che conoscevano quello studio e mi fidai, pensai che avere uno studio fosse una garanzia di professionalità e competenza, niente di più sbagliato, lo era allora e ancora oggi in alcuni casi lo è, non è una garanzia, anche perché fu in grado di rovinare il disegnino di un ragazzino di 14 anni, dopodiché mi feci un braccio completamente tribale, partiva dal petto ed era tutto un braccio tribale, fatto da un amico che stava imparando, ho fatto anche quello, l'ho disegnato io, per fortuna facevo l'illustratore e il fumettista in quel periodo quindi sapevo disegnare, il disegno non era neanche male, però tatuato da qualcuno che stava cominciando, quindi per fortuna anche lui era un disegnatore, quindi non era proprio una merda, però insomma ci si andava vicino, mi sono tenuto sta roba, poi mi sono fatto altri tatuaggi da solo, poi mi sono fatto delle coperture da solo, poi ho cominciato a tatuare, quando ho cominciato a girare il mondo, ho cominciato a tatuarmi in giro per il mondo perché diventavo amico del tal collega, amico del tal altro, quindi io tatuo te, tu tatui me e mi sono riempito un po' di roba e ad essere onesti, quasi tutto quello che ho, a parte quelli che ho rimosso, perché in realtà di tutti i tatuaggi che mi sono pentito praticamente sono quasi tutti rimossi e alcuni, ce ne sono pochi di cui non mi sono pentito, che rappresentano qualcosa che mi è veramente vicino, è veramente parte di me, vabbè uno rappresenta i miei gatti, è uno stile che ho sviluppato nel corso degli anni per i miei dipinti e quindi lo trovo, mi piace, mi piace ancora anche se è diventato vecchio eccetera. Mi sono rimosso poi tutta la roba che avevo sul braccio, mi ne sono rimossi altri perché adesso sto facendo finalmente qualcosa di organico, qualcosa che parte dal braccio, prende il petto, va a finire sulla gamba e poi partirò dall'altro braccio e finiremo sull'altra gamba. Ha richiesto tempo, ha richiesto autocritica perché spesso e volentieri ci fissiamo su quello che abbiamo, so benissimo, ci si fissa su quello che abbiamo, non è stato facile prendere la decisione di rimuovere i tatuaggi perché sono parte di te e per quanto brutti ti ricordano qualcosa però sono passato anch'io dal ma preferirei che il mio tatuaggio, l'idea che sia sotto e che non sparisca del tutto perché è chiaro, è sulla tua pelle, è diventato parte di te, è lì da anni e a meno che ti faccia proprio cagare ti vergogni perché io sono passato anche da quella fase, vergognarmi, coprire la manica perché non mi piaceva quello che avevo indosso e comunque non è facile ma quando ti rendi conto che per avere qualcosa di spettacolare devi rimuovere quello che hai, ha per quanto difficile alla fine quando l'ho fatto ne sono stato felicissimo perché finalmente ora posso fare quello che voglio e ci sono altri tatuaggi che rimuoverò cosa ho imparato in tutta questa odissea? Come dicevo già in un video andiamo avanti per errori e tentativi perché non abbiamo una cultura del tatuaggio, la figura del tatuatore non è una figura formata come quella del medico non è che il tatuatore studia per 10 anni e poi ha 5 anni di inserimento oppure è una delle figure più... non saprei neanche come definirla perché effettivamente non è che ci sia bisogno di fare chissà che per diventare un tatuatore, non c'è un albo, non c'è... quindi non è... non è facile districarsi in tutti questi studi poi che stanno aprendo ora mi rendo perfettamente conto ma questa è parte di un altro video cosa ho imparato io? Ho imparato che il tatuaggio è una cosa che va pensata con calma ma soprattutto l'artista va scelto con calma non basta affidarsi al tatuatore che sta vicino a casa o all'amico o a quant'altro devi scegliere un tatuatore che faccia qualcosa delle opere di cui innamorarti qualcosa che veramente adori e pensi cavoli io voglio assolutamente questo tipo di cose sul mio corpo e non importa quanto lontano è poi per carità magari ti va di culo e a due chilometri da casa hai un artista spettacolare vabbè quello è culo ma altrimenti vai da quel tatuatore non importa quanto sia lontano perché è il tuo corpo e non c'è niente di più importante che stare bene con se stessi quello che ho imparato è che il tatuaggio è molto molto più importante di quello che possiamo pensare perché veramente investe il rapporto che abbiamo con noi stessi il rapporto che poi ovviamente abbiamo con gli altri come si dice prima la maschera d'ossigeno te la metti tu perché altrimenti non sei in grado di aiutare gli altri se tu non stai bene non puoi aiutare gli altri qua vabbè stiamo andando un po' nel filosofico però è importante il tatuaggio impatta anche sulla tua psicologia se non ti senti bene con quello che hai indosso va un po' tutto a fanculo quindi è importante scegliere l'artista che è in grado di fare qualcosa di spettacolare che ti piace veramente e non importa quanto lontano è prendi e vai da quell'artista metti da parte i soldi e vai lì oltre ad avere un tatuaggio fantastico avrai anche una storia da raccontare ho imparato che il nostro corpo non è un diario di viaggio non è un diario dove segnare quello che ci avviene nella vita perché per quello ci sono le agende per segnare i viaggi ci sono gli adesivi da mettere sulla valigia il nostro corpo è qualcosa di più e appunto non è un diario di viaggio questo ho imparato ed è importante affidare il proprio corpo a un artista che abbia un'etica una professionalità e una capacità artistica di tradurre alcune idee in modo superlativo e soprattutto trovarne uno che sia in grado di offrirti qualcosa a cui tu non puoi arrivare perché chiaramente l'artista è colui che è in grado di creare qualcosa che non esiste ancora quindi ecco cerca attentamente l'artista e se devi viaggiare per andarci fallo anche perché alla fine viaggiamo facciamo chilometri e chilometri per andare in vacanze in posti esotici o per andare a un concerto ci facciamo chilometri e chilometri e poi non ti fai un po' di chilometri per il tuo corpo quindi ecco questo condensando al massimo è quello che ho imparato che poi alla fine è un po' il tema portante dei miei video ovviamente questa è la mia di esperienza poi ognuno è diverso e come sempre liberi di fare quello che volete è un po' di più